Narrativa attiva. A che serve la narrativa attiva? Commento. Ad applicare l'insegnamento dei maestri immateriali alla vita. Mia moglie ed io abbiamo avuto un figlio gravemente cardiopatico che dopo un'infinità di esami ed un'operazione preparatoria a Zurigo è trapassato a tre anni. La narrativa arriva fin qui. Poi i maestri immateriali hanno spiegato che mio figlio è nato gravemente cardiopatico perché in diverse vite precedenti, come donna e come uomo, io ho abortito e fatto abortire più volte. Da qui inizia la narrativa attiva. Grazie.